E poi tra l'altro questa è una città veramente meravigliosa, è uno stato bellissimo, io per chi ne ha la possibilità invito tutti davvero a venire in viaggio in Portogallo perché davvero è un paese dove si vive benissimo, a parte il clima, anche la disponibilità delle persone. E poi Sergio noi abbiamo questa passione comune per il baccalà, il baccalà portoghese è sinceramente importante, io e Sergio Bria abbiamo questa passione del baccalà e quindi prima o poi andremo tutti insieme a fare una mangiata a base del pesce, dello stoccafisso come si chiama da qualche altra parte.